un sacco brasiliano in prova sta filmando, sto filmando ho il mio querido ho un video dele, ho un video dele ho il mio canale ho il mio canale ho il mio canale ho il mio canale io grazie a Dio ho il mio canale fare il mio lavoro per Ponzaco stare felice con il mio lavoro qua solo questo l'altra parola se dice in campo in vista dell'inizio la preparazione da parte del Presidente è stato tecnico, c'è entusiasmo un lavoro d'affari non manca in casa di Sotu ma le idee sono molto chiare ce l'hanno consigliato e detto che è veramente un ragazzo forte diamo un attimo speriamo che dimostri il suo valore oggi è un Presidente il Presidente il Presidente ci sono i ragazzi italiani qualcuno arriva a avere il Presidente siamo qui siamo qui che si lavora stiamo aspettando la regione di Lazio diciamo che siamo soddisfatti fino ad oggi della volontà infatto non sa che la realtà è molto importante il Ministro è convinto siamo tutti convinti aspettiamo l'edì mattina per poi recarci il lavoro che questa è la cosa più importante è una partita di beneficenza sicuramente vai vai a gente filmare che a gente viu na ora faccio io foto a voi faccio io foto faccio foto foto uno no io a voi sono un momento che vuoi Grazie a tutti.